buongiorno ciao oggi siamo a roma questo è lo stadio delle terme di caracalla dove ci sarà la corsa di fine anno per poi ci sarà oggi pomeriggio alle due per poi insomma tirare il pomeriggio e arrivare alla sera al circo massimo per il concertone di fine anno che insomma faremo qui quest'anno a roma nella nostra capitale e queste sono le terme di caracalla qui ci sono belle e bellissime qualcosa di spettacolare di antichissimone qui c'è il parcheggio eccole qui poi si entra là dentro qui si vede abbastanza bene una parte antichissima qui si trova indietro di di millenni non di secoli si può dire tranquillamente di almeno due millenni se non di più tanta roba tanta roba tanto sempre bello essere qui sempre bello venire a roma oggi batteremo questa zona la casilina come tutti sappiamo siamo sulla casilina c'è un stadio ecco lì stanno finendo di preparare un po tutto poi si andrà anche in centro a roma con la corsa dopo che se passeremo anche a piazza venezia dove c'è l'altare della patria il cuore di roma colosseo e si tornerà qui a caracalla le terme di caracalla per la parte conclusiva quindi è l'arrivo partenza arrivo da qui ma si va anche in centro città naturalmente eccole qui eccole qui le terme di caracalla dentro c'è tanta roba da vedere bello sempre bello ti accorgi che ci sono i millenni c'è la storia dappertutto dovunque guardi c'è storia sicuramente questi sono questa le terme di caracalla sono un passaggio veramente importante di questa città bello bellissimo ciao a presto ciao